Una bella giornata qui all'Assemblea Legislativa, ho avuto il piacere di consegnare due diplomi a Sergio e Francesco, il diplomi per l'alternanza scuola-lavoro, due bravissimi studenti dell'Istituto Casimiri di Guadotadino, un plauso a tutti i docenti, ma soprattutto un ringraziamento alle famiglie di questi ragazzi perché abbiamo potuto constatarne la volontà, l'impegno e l'educazione nel lavoro e nello studio. Questi sono i ragazzi che vogliamo vedere al lavoro qui in Umbria, nelle istituzioni e soprattutto al servizio di tutta la comunità.